Diamo il benvenuto da Blu Rating a Sergio Sorgi, socio fondatore di Progetica, una nota società di consulenza che quest'anno compie i suoi 25 anni. Ecco Sergio, ripercuriamo un po' insieme la nascita di Progetica, come e perché è stata costituita questa società. Sì, noi nasciamo nel 1994, siamo persone che venivano dalle sedi, in particolar modo dall'intermediazione immobiliare e qualche anno fa pensavamo che fosse necessario in qualche maniera innovare il rapporto fra operatori e cittadini fornendo agli operatori finanziari e sicurativi strumenti di elaborazione, strumenti oggettivi per migliorare la relazione con il risparmiatore. Ma lo dico col sorriso, probabilmente non era proprio il momento migliore, nel senso che era prematuro per il mercato fare questo passo laddove c'erano ancora temi che andavano risolti, dalla certezza dell'esistenza degli intermediari alla nascita dei prodotti e quindi insomma fumo un po' tacciati di avventurismo. Però credo che succeda sempre così nell'innovazione, tu fai qualcosa e c'è sempre qualcuno che dice che sì, la cosa è molto bella, ma non si può fare perché è troppo presto. Noi eravamo un po' tignosi e quindi abbiamo deciso di metterci in proprio, di uscire in qualche maniera dal mercato e attivare una nostra iniziativa imprenditoriale. All'inizio non è stato per niente facile perché noi volevamo sperimentare le cose che dicevamo e quindi abbiamo cercato non tanto di pensare quanto proprio di cominciare a lavorare. Siamo andati a vedere clienti, abbiamo fatto gli esami da promotore, l'esame da assicuratore. Insomma abbiamo scelto sin dall'inizio una via teorico-pratica e anche questa non era tanto diffusa che ci consentisse un po' di sperimentare per primi quello che facevamo. Poi si nasce come tutti, in una stanza nella quale si è in tanti, allora in più fumavamo, quindi questa stanza aveva una colte di nebbia ai limiti della decenza. Di giorno si usciva, si sperimentava, si cercava di capire e poi la sera si tornava in ufficio e si scambiava le esperienze e si creavano i primi strumenti, le prime presentazioni, i primi software di analisi perché l'idea di fondo che ci è rimasta è che finanza, previdenza e assicurazione sono temi molto delicati per il benessere delle persone e quindi richiedono proprio una cura, un rigore, una voglia di coniugare metodi, strumenti e morale che sono degni di particolare interesse. Grazie Sergio. Ma allora, dato che voi siete degli innovatori, quindi degli sperimentatori, come vi siete un po' adeguati ai cambiamenti che sicuramente immagino ci saranno stati nel corso di questi 25 anni nel vostro settore? Sì, innanzitutto bisogna tenere conto di una cosa, cioè che non ci sono mai operazioni elitarie. Tu prosperi e cambi se ascolti i tuoi utenti e se hai un buon rapporto con i tuoi utenti e questo ci ha aiutato moltissimo e non è banale. Noi oggi siamo, credo, rispettati in senso buono, cioè c'è proprio una buona relazione con i nostri clienti perché si sa che c'è un atteggiamento genuino, anche critico, autocritico, ma c'è proprio la voglia di fare quello che dicevi, cioè di cercare di capire la contemporaneità e seguirlo. Quindi, insomma, in breve siamo partiti addirittura con l'idea di realizzare un esperimento di rete distributiva. Poi pian piano, siccome i modelli e gli strumenti che creavamo funzionavano, con il passaparola siamo cresciuti proponendo innanzitutto software, software di analisi, finanziari, assicurativi e previdenziali. E poi il mercato ci ha chiesto di mettere queste cose al servizio della comunicazione perché ovviamente la distribuzione non è uno strumento, la distribuzione è uno strumento al servizio di uomini e quindi siamo evoluti anche lì cercando di unire metodi e comunicazione e poi il grande passo è stato scoprire che esistono degli standard di qualità, esistono delle norme tecniche al mondo che descrivono minuziosamente e per bene come si fa per bene il consulente. E quello è stato un passaggio fondamentale per noi, cioè acquisire gli standard internazionali, chiedere a uni ed essere i relatori delle norme tecniche su come si fa per bene il lavoro di consulenza ci ha servito di nuovo a fare un salto di qualità e quindi a realizzare strumenti, comunicazioni e protocolli che fossero veramente di garanzia per i cittadini o per gli operatori perché fare le cose per bene è sempre utile. L'ultimo passo, per non essere voi lunghissimi, è stato seguire un altro cambiamento che è stato il cambiamento dalla consulenza pura all'educazione finanziaria perché intanto nel mondo nascevano esperienze americane e inglesi nelle quali si sosteneva correttamente che non basta avere un consulente medico capace se poi i cittadini non hanno accesso, non hanno la possibilità ma anche la conoscenza che si possa andare da un consulente e quindi abbiamo sviluppato i programmi di educazione finanziaria. Anche qui non da soli, un grandissimo supporto l'abbiamo avuto dal Comune di Milano che ci ha dato una mano a realizzare modelli comuni che ancora oggi crescono e prosperano ma ripeto e non voglio mai dimenticarlo, il vero successo di un'iniziativa non sta nell'intelligenza o nell'idea meravigliosa, ci vuole conciutaggine, sì un po' di idee ma soprattutto ascoltare e manutenere il rapporto con i tuoi utenti che sono davvero i sensori che ti spiegano qual è il cambiamento di mondo al quale se non vuoi essere supponente devi adeguarti. Grazie Sergio, ma allora vediamo se ho capito bene, educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale sono i vostri focus su cui vi concentrate ma ci saranno altri temi di indagine in cui Progetica si concentrerà in futuro? Direi di sì, l'educazione finanziaria è stata per noi una frontiera, adesso è molto comune ma allora non lo era, diciamo che uno dei pochi orgogli che davvero abbiamo è quello di aver anticipato alcuni temi, abbiamo recuperato un po' la demografia, la sociologia, il tema delle paure delle persone, il tema della necessità che avessero strumenti di indagine e oggi stiamo sviluppando questo. È chiaro che il tema è immenso perché si tratta di aiutare le persone a prendere in mano la propria vita e questo richiede ad esempio un grande lavoro sui bisogni, è facile dire che si lavora sui bisogni, che cos'è un bisogno? Qual è la componte tecnica, metodologica? Che cosa vuol dire lavorare su un ciclo di vita? Come si aiuta una famiglia a mandare un figlio all'università oppure a proteggere il reddito il patrimonio o a capire che si può smettere di lavorare prima di andare in pensione e che questo richiede dei momenti di consapevolezza? Quindi c'è un grande tema culturale, un grande lavoro che stiamo facendo sui bisogni e poi siccome bisogna sempre stare attenti a non pensare che la tua interpretazione del mondo sia quella giusta, stiamo lanciando un grande percorso di ricerche che si appoggia su un metodo che si chiama Policy Delphi che abbiamo usato anche a Milano per ricercare il futuro e stiamo proprio cercando e aiutando le aziende a capire dai loro clienti e dalle proprie reti che cosa desiderano per il futuro e che cosa temono, quindi stiamo cercando anche le nuove tendenze che faranno parte del futuro in modo tale da muoverci in quella direzione. Insomma alla consulenza e all'educazione stiamo avviando studi sul benessere, sul futuro, ricerche per accompagnare le prossime fasi. Grazie Sergio per aver condiviso con noi la tua esperienza e la tua storia e come si dice altri di questi 25. Grazie a voi per averci invitato e insomma spero che fra 25 anni verranno i nuovi ragazzi di oggi che è un'altra cosa bellissima che ci aiutano a creare la progettica del futuro.